Da una tragedia il gesto di amore più grande. Sono stati donati gli organi di Alexandru Iono Tartene, il diciottenne di Ortona, che ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto pirata nella notte tra martedì e mercoledì, mentre si trovava in bicicletta. Il ragazzo stava rientrando a casa dopo aver terminato il turno di lavoro in pizzeria. Nonostante i tentativi di soccorso, il giovane è deceduto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara, dove era stato trasportato in condizioni disperate. Dopo la diagnosi di morte cerebrale e il periodo di osservazione necessario, i familiari del diciottenne hanno dato il loro consenso per il prelievo e la donazione degli organi, consentendo ad altre vite di essere salvate. Cuore, fegato, reni, pancreas e corne sono stati prelevati e destinati a diverse strutture. Il cuore e il fegato sono stati inviati a Roma, mentre un rene e le corne sono stati destinati all'Aquila. Il responsabile dell'incidente e un artigiano della provincia di Chieti si è costituito ai carabinieri poche ore dopo l'accaduto, mentre le forze dell'ordine erano già sulle sue tracce. A dare l'allarme iniziale era stato un automobilista che, passando per via De Vitis a Ortona intorno alle 3.30 di mercoledì, aveva trovato Alexandru agonizzante sull'asfalto. Questo drammatico evento ha scosso profondamente la comunità, ma il gesto di generosità della famiglia attraverso la donazione degli organi ha portato un raggio di speranza in una situazione di immenso dolore.